Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo video spacchettamento Lalalupsi doll da Aliexpress Come vedete qui abbiamo la mia Lalalupsi grande che è davvero tanti anni che ce l'ho Questa ha il vestito in stoffa, è fatta così Io preferisco quelle piccoline anche perché sono meno ingombranti E le trovo forse più simpatiche? A me piacciono di più Qui come vedete abbiamo le tre Lalalupsi doll Che abbiamo spacchettato nel video precedente che era l'unboxing di Aliexpress numero 50 Non sapevo che in quel video avrei messo solo le Lalalupsi Allora l'ho intitolato unboxing numero 50 Ma questa volta ho deciso di fare un video dedicato solo alle Lalalupsi Qui abbiamo pigiamina stupenda, gelatina e spaventapasseri Se volete vederle nel dettaglio alla fine di questo video ci sarà il quadratino cliccabile per vedere appunto il video precedente Andiamo a spacchettare le nuove Lalalupsi doll da Aliexpress Ecco qui il pacchetto, andiamo ad aprirlo insieme Siete curiosi di sapere quali abbiamo scelto questa volta perché le abbiamo scelte Vediamo un po' cosa esce 3, 2, 1 Oh mamma mia Che carina! Oddio è bellissima! Vado subito a togliervi il sacchetto perché fa troppo riflesso Oh mio Dio ragazzi! Guardate non ho parole! Assomiglia un po' a lei perché ha la coroncina in testa Ah pensavo a me che assomigliava Guardate! Io vi ho già spiegato nell'altro video che queste bamboline sono stampate da Dio e sono anche marchiate MGA con il marchio originale Questa che abbiamo scelto è veramente stupenda Ha questi codini È un pochino trasparente e anche leggermente perlata Il vestitino è trasparente Guardate com'è dolce Ha questi braccialetti E nelle gambe Ha queste scarpe stivaretto All star tipo Vedete? Sì, sempre tipo Converse Vediamola bene Come vedete io quello che adoro di queste bamboline è che sono anche texturizzate Vedete la calza qui? Si vede la texture e anche il vestito è tutto texturizzato bene C'è un fiocchetto dietro, guardate! Guardiamola bene La testa come vedete benissimo si muove, gira leggermente e balla un po' Bellissima Capelli stupendi, vestito stupendo davanti a tutti questi bottoncini E al collo cos'ha? Un altro fiocchetto, no? Una collanina E il vestito è trasparente Bellissima, magnifica! Sono follemente innamorata di queste dalla Lupsi Eh, troppe ne vedrete ragazze! Quando uno si innamora perde la testa Le braccine anche si muovono e ovviamente anche le gambe Belle, belle, no? Davvero, sono troppo belle Qui potete vedere il marchio MGA Le abbiamo acquistate dallo stesso venditore Dal quale abbiamo preso quelle tre lì in fondo Adesso vado a mettere assieme perché si sono riunite Probabilmente si erano già anche viste dove erano in Cina Chissà se si erano già incontrate Voi cosa dite? Andiamo ad estrarre Vediamo cos'altro esce Oh mio Dio, sono emozionatissima Non mi ricordo qual era No Verdina, verdina Sì, mi è venuta in mente Verdina, verdina Oh, che carina anche lei Andiamo a scoprirla subito Ed ecco qui l'altra bambolina che è uscita Guardiamola bene nel dettaglio Questa è la scelta mia mamma Ma in realtà anche l'altra Solo che la sento più mia, quell'altra là In realtà sento più di averla scelta io Ma io perché amo il verde acido Amo, amo Guardiamola bene Qui ci sono questi fiorellini Il centro del fiore Cioè notate questo dettaglio magnifico È giallo, è un bottone giallo Il centro del fiore Sopra i capelli sono così Dietro sono raccolti Si vede, ha queste alucce Guardate, perfino le ali, dai Guardate gli occhi, le guance, la bocca Come sono stampati bene Non si può assolutamente dire niente di negativo Su queste bamboline Perché sembrano a tutti gli effetti originali O lo sono Non posso dare la certezza Il vestito è fatto così Con questo bellissimo fiocco Tutto texturizzato Le gambine sono fatte tipo elfo Tipo fatina Con queste calze rigate E queste scarpette così E sì, infatti Con le ali si può dire Magari che sia una fatina Sì Perché le scarpe Proprio di quelle a punta Ecco qua Qui potete vedere Che c'è un pezzettino sporco Lo sporco da queste bambole viene via Se usate una gomma per cancellare O uno straccettino bagnato Il venditore lo dice È proprio scritto Nella descrizione del prodotto Esatto Che se siete dei perfezionisti E avete paura di trovare Qualche pezzettino sporco Non acquistate Perché non è giusto Dare un feedback negativo È il venditore di queste bamboline Perfette Solo perché sono magari Un pelino sporche Come questa E comunque Vi ripeto Lo sporco viene via Perché avrete visto Nel video dove ho fatto vedere Le altre Che questa qui gelatina Era un pochino sporca E è venuto via lo sporco Magnifica Magnifiche tutte Anche questa muove le braccine La testa e le gambe Spettacolo Ed ecco qui L'altro pacchetto Della Lupsi ragazzi Ho dovuto aspettare un po' Per questo Ma sono contentissima Qui dovrebbero essercene quattro E adesso andiamo a scoprirle insieme Però voglio anche dirvi Che talmente adoro Queste Lella Lupsi Che ho già registrato Altri due video Questi due video Che andranno online Dopo questo Contengono Dieci Lella Lupsi Ciascuno Quindi saranno Altre venti Esatto Pensate a che lungo Siamo arrivati Sono felicissima Per questi video Non vedo l'ora Di farveli vedere Però per farveli vedere Ho dovuto aspettare Che arrivassero queste Perché dovevo caricarle prima Ecco per adesso È finita lì la storia Ecco perché Venti e poi quattro E poi due E poi tre Arriviamo a cinquanta Senza cosa Andiamo ad aprire E scopriamo Quali Lella Lupsi Escono da qui La prima Oh mio dio La prima Non lo so Ah no Non l'ho scelta io Questa Questa è quella Che ho scelto io Ed è la cheerleader Sì Ovviamente I link per acquistare Ve li lascio nell'info box E insomma Ci sono tanti venditori E vi lascio quelli da cui ho acquistato io Quelli migliori E queste abbiamo speso molto meno delle prime Cioè non molto meno Ma un euro e cinquantasei l'una Andiamo a vederla nel dettaglio Come vedete è molto carina Molto stampata bene Ve l'avrò già detto mille volte Ha delle piccole macchiette di sporco Ma ragazzi Vengono via Se avete questo problema Che appunto Pensate che vi dà fastidio Che siano un po' sporche Non acquistate Come dice il venditore È il venditore saggio Ragazzi Però sono veramente bellissime E soprattutto Sono tutte marchiate Con il marchio MGA Vi faccio vedere Che è lo stesso marchio Fra l'altro Che fa le LOL Originali Ecco qui Potete vedere MGA Dietro è così Questa qui sarebbe appunto Come diceva Nadia La cheerleader Sono bellissimi i capelli Anche il vestitino Come vedete Sempre texturizzato Le scarpine sotto Sono texturizzate In questo modo Diverse da tutte le altre Che abbiamo visto fino adesso È bellissima Perché ha anche le maniche lunghe E ha una PC Non so per cosa stia Sì Sono delle squadre lì Del rugby Di queste cose Che ci sono in America Come tutte le altre La testa gira un po' Si muove E anche le braccia si muovono E ovviamente anche le gambe Bellissima Con le sue calzettine E le sue scarpettine È troppo dolce Questa in effetti Non l'avevo considerata abbastanza Ma è veramente bella Ve la metto qui Ma lei sempre Le cose che scelgo io Non vengono mai considerate Poi quando arrivano Gli piacciono Eh vabbè dai Comunque ne ho prese anch'io Vediamo se questa è mia Che esce Siete pronti 3, 2, 1 Sì Questa è mia Oh che carina Questa è forse quella Si Si discosta un po' Dalle altre Per i colori che ha È un po' Oddio che bella Guardatela ragazzi Aspettate che ve la faccio vedere bene Eccola qui Guardate Che faccino dolce Dovrebbe essere appunto Un'infermierina Come vedete Però in realtà Non si capisce Perché forse Per la crocetta Che c'è lì sul cappello Ma per il resto Cioè Infermiera Si infermiera No Non si sa Non si capisce Sì Secondo me Dovrebbe essere un'infermiera Comunque queste scarpettine Così Con il fiocchetto rosso E le calzine Lilla Vedete che bella Anche lei Sempre muove testa E braccia Sono tutte uguali Da questo punto di vista Sotto le scarpettine Vedete come sono Con i cuoricini È molto bella Anche dietro Al fiocchetto Per annodare appunto Il grembiolino Ed è uno spettacolo Ragazzi Non c'è niente da dire Ce n'è un'altra Identica a questa Che hanno vari venditori Mettiamola qua Che però È identica In tutto e per tutto Ma ha delle macchie strane Di vernice Sì È in testa Quindi non si capisce Se un'infermiera Deve avere le macchie Perché comunque Le Laralupsi Sono in teoria Sempre un po' A tema vernice Non lo so Chi se ne intende di più Me lo scrive nei commenti Perché non me ne intendo tanto Andiamo a estrarre la prossima Chissà quale sarà Può essere mia Sì È tua Sì È quella che ho scelto io Ragazzi Anche questa è molto particolare È il mimo Sì Vedete La stessa capigliatura Di quella lì azzurra Vado a scartarvela Vestita esattamente Come i mimi francesi Non so se conoscete Con lo stesso abbigliamento No vabbè È uno spettacolo Ha il viso bianco Appunto Perché sapete Che i mimi si pitturano Oh che bella Guardate Non ho parole Sono innamorata Ha i suoi guantini bianchi Appunto da mimo Questo vestitino così Guardate il trucco Vedete Gli occhi come sono Bellissima Non ho parole I capelli I capelli Siano la stessa forma Di quella lì Della fin dell'infermierina Dietro il vestito è così Ha questi collant Pantacollant Non saprei E queste scarpine Col fiocco bianco Calze rosse Molto dolce E questa mi dà tantissimo L'idea di Parigi Non so perché Della Francia Forse perché i mimi Generalmente vestiti così Vengono sempre dalla Francia È uno spettacolo Mettiamola qua E andiamo alla prossima Ed ultima Per questo video Però appunto Vi ricordo ragazzi Che questi video Li manderò online Appunto alla domenica E ce ne sono altri due Registrati pronti E saranno ricchi I prossimi video Perché addirittura 10 Andiamo ad estrarre L'ultima Per questo pacchetto Oddio Ma questa l'avevo scelta ancora io Certo Tutto tu hai scelto Allora tu ne hai scelta Oddio Guardate È bellissima Non vedo l'ora Ve la scarto Ah è Maria Antonietta Sì ragazzi Guardate questo Maria Antonietta Guardate le scarpine Non so Cioè veramente Sembra che ogni bambolina Che estraggo È più bella della precedente È così All'infinito Perché sono tutte troppo belle Questa ha anche un neo Vedete È ingorda la valle Avete capito o no? Come sempre La stampa è la perfezione Il vestito pure È la perfezione Guardate la texture Qui ha una texture a fiorellini Qui invece è diversa Quadretti Questi fiocchettini Questo vestito Un po' antico Anche le calze Hanno un volante Lì vedete È bellissima Il viso È perfetto E i capelli Sono in questa acconciatura Un po' antica Sempre stupenda Veramente I capelli Sono bianchi Però sono perlati Credo che in videocamera Non rendano tantissimo Ma sono proprio perla Bianco perla Ed è una cosa Spettacolare Non abbiamo visto Le scarpine come sono Ci hanno sempre I tre cuoricini sotto Come molte altre La La Lupsi E io la trovo Magnifica Sicuramente una delle mie preferite Ma quale Quale non è la mia preferita Ecco ragazzi Non lo so Ragazzi che qui Cicciano fuori Da ogni parte Diverse Ecco Per esempio C'è anche una Che mi piace tantissimo Che fa da pupazzo di neve C'è quella Che mi piace tantissimo Vestita da Babbo Natale E quella addirittura Vestita da Non da Mimo Ma come si chiama Da Pierrot Che è un facsimile Del Mimo Però è tutto vestito Metà bianco Metà nero Proprio un Pierrot Con la lacrimuccia Sotto E non si può Ragazzi Se dovessero arrivarne Di nuove Su Aliexpress E Dovessi poterle scegliere Ne comprerei di sicuro Adesso ne ho addirittura 29 Perché qui ce ne sono 9 E nei prossimi video Ne vedrete 10 E poi 10 Quindi Adoro tantissimo È ingorda Ragazzi Non ascoltate questo Non sono ingorda Si tratta di una collezione Io non vedo l'ora Di avere una baccheca Bella trasparente Con tutta la mia collezione Di Lala Lupsi Adoro tantissimo E sono costate Soltanto un euro Qualche centesimo E 56 Queste Si è un euro 56 Queste Però Altre sono anche costate Un euro e 10 centesimi C'è veramente Una collezione Economica Stupenda Top Adoro Ed ecco qua ragazzi Questo video Pieno di dolcezza Finisce qui Spero tantissimo Spero tantissimo Che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciatemi un bel like E iscrivetevi al canale Per fare in modo Di non perdervi I prossimi video Sulle Lala Lupsi Che stanno per arrivare Un bacione zuccherino A tutti ragazzi E alla prossima Ciao 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 Ciao